Onorevole solo, secondo lei? Insomma, il fatto che 3 milioni e 400 mila persone, questo sarebbe il dato conclusivo... Attento con le cifre a buon aiuti, attento, onorevole. No, no, io un po' conosco più di buon aiuti questa cifra. È autocertificato, quindi? È certificato in modo tracciabile, diciamo, come si usa dire in questi casi. Il fatto che tanta gente sia andata a far la fila nei seggi elettorali per tutta la giornata, moltissimi seggi sono rimasti aperti per oltre un'ora dopo il termine, significa che l'interesse alla partecipazione politica non è affatto diminuita, anzi è fortissima. E quindi c'è una certa dissociazione fra la rappresentazione della politica come una cosa sporca, brutta, da liquidare con una battuta, non voglio dire che questa sia la considerazione prevalente, anzi mi parrebbe che anche molti commentatori in questo periodo abbiano suggerito che per battere l'antipolitica occorre fare buona politica.